Domenico Didi su Facebook 23 ottobre 2016 Vorrei dare una piccola informazione a chi non la conosce. Nel primo documento segreto di Santa Fe che intendeva inaugurare augurava una politica estera rispetto la cosiddetta coesistenza pacifica seguita alla Guerra Fredda, documento che fu base della futura politica estera statunitense, si parlava a lungo sia del Vaticano sia di creare nuove sette religiose in chiave anticomunista e come mezzo di pressione sul Vaticano per affossare la teologia della liberazione. In quel documento si parlava anche del ruolo di Grenada affermando che Maurice Bishop Kane era il presidente e avendo guidato una rivoluzione comunista, era un pericolo per gli USA. E lo stesso si diceva anche di Omar Torrigios, presidente panamense. Una specie di Hugo Sanket dell'epoca che aveva firmato un accordo con Carter per riportare sotto la sovranità panamense l'omonimo canale. Pochi anni dopo Maurice Bishop fu assassinato e Grenada invasa. Così come successe con Omar Torrigios. Assassinato e in seguito Panama invasa. Per quello che riguardava il Vaticano, penso che tutti sappiano della morte di Papa Luciani a cui successe il santo subito. Che seguì per filo e per segno tutte le indicazioni di quel documento. Grazie. Grazie.